E ciao a tutti amici sono sempre io Gold e benvenuti all'appuntamento settimanale con la rubrica TechPlace Rieccoci su Space Engine con un altro mod spotlight, vediamo subito le mod di oggi Oggi ragazzotti parliamo di ARMY, Nova Cannon e Macro Cannon di His Divinity Il creatore della mod ha dichiarato nella descrizione di entrambe le mod Si è ispirato all'universo di Warhammer e di un altro gioco che adesso vi lascio in sua impressione perché purtroppo non lo ricordo Comunque ragazzotti queste mod sono spettacolari da vedere quindi immagino che funzionino ancora meglio Direi che iniziamo subito con l'analisi visiva dei blocchi per poi passare a quella pratica effettivamente Prima di tutto ragazzotti, beh ve ne siete già accorti, hanno il movimento in Idol il che è spettacolare Per la torretta, cioè per la torretta, per il cannone Nova era effettivamente prevedibile Cioè guardatelo, è davvero bello effettivamente e era prevedibile che si muovesse Ma io non me lo aspettavo anche per i Macro Cannon E invece ragazzotti, eccoli qua, si muovono in Idol Questi qua che teoricamente sarebbero cannoni laterali per fare fuoco di batteria o cose del genere E invece si muovono, il che probabilmente gli da anche possibilità di sparare con più angolazione Ed è una cosa davvero ottima La prima cosa che salta all'occhio sicuramente è che sono adattati con le nuove texture E questa è un'ottima cosa ragazzotti E nulla, sono davvero davvero belli Comunque, tolta l'analisi visiva che effettivamente è quello che è, è bellissimo e tutto Parliamo adesso per quanto riguarda la costruzione di questi blocchi e delle loro caratteristiche Quindi, allora, parliamo del Nova Cannon È un blocco 3x3x3, come potete vedere qua Quindi che occupa un volume di 9 blocchi Ed è sostanzialmente enorme Stiamo parlando però soltanto della base Quella che va attaccata al blocco, dove deve essere attaccata Perché la torretta in sé è compenetrabile Quindi potete passare in mezzo e fare altre cose varie Per quanto riguarda invece il Macro Cannon Ragazzotti, esso ha le stesse caratteristiche O almeno, ha le stesse dimensioni, scusate Di un thruster, cioè di un propulsore grande ionico Quindi è un 2x2x3 Il Macro Cannon, ragazzotti, occupa davvero davvero pochissimo spazio Entrambi sono adattati per il survival Quindi hanno un sistema di conveyor di trasportatori completo E sostanzialmente hanno anche gli stadi di costruzione Sebbene si possa pensare che effettivamente questi blocchi richiedono tantissime Beh, non tanto magari Macro Cannon Quanto il Nova Cannon Richiedono tantissime risorse Ne richiedono davvero poche, vi faccio vedere Prima di tutto, entrambe ne richiedono la stessa quantità Quindi, sia per il Macro Cannon che per il Nova Cannon Non abbiamo come richiesta 26 computer 28 motori 22 tubi di acciaio grande 60 componenti di costruzione 92 lastre di acciaio Il che li rende decisamente ragazzotti Abbordabili Cioè nel senso non costano molto E sono sicuro che il Nova Cannon ragazzotti È decisamente, decisamente forte Quindi magari dovrebbe essere aumentata comunque la richiesta di componenti Ma ancora dobbiamo provarlo Quindi per ora diciamo che per delle armi che sembrano forti Forse la richiesta di componenti è davvero bassa C'è poco da dire ragazzotti Sappiamo che sono survival ready Sappiamo che costano poco Li dobbiamo semplicemente provare Quindi iniziamo subito i test Ok ragazzotti allora Ho fatto un paio di test giusto per provare effettivamente com'era questo cannone Allora Può colpire in un cono d'azione di 90 gradi 90x90x90 Così vedete ragazzotti Ha un raggio di puntamento Il che vuol dire che può attaccare da solo Fino a 2 km e 400 metri Ragazzotti questo cannone è praticamente un fucile di precisione Tutto questo compensato però dalla ricarica molto alta Perché ha 30 secondi di ricarica Quindi ragazzotti allora Non perdiamo altro tempo E testiamo contro una lastra di armatura pesante Da un blocco di profondità Cosa? No scusa Ehm Cosa è successo? Ehm Ok Ragazzotti Visti gli effetti devastanti dell'esplosione Mi sono allontanato un po' 2 km Tanto dovrebbe essere in range Quindi Direi che semplicemente Torniamo indietro E cerchiamo di fare centro Ok ragazzotti Tutto pronto Abbiamo anche già mirato A circa 2 km E Oddio Non me ne sono accorto Vi giuro Andiamo a vedere i danni Eh sì Magari non così Ma il danno ragazzotti È Relativamente basso Il problema Credo sia tipo L'onda d'urto Una cosa del genere Perché Non so voi Ma c'è stato tipo Un detrito Verso dove eravamo noi Non saprei ragazzotti Mi aspettavo qualcosa Di più Certo Ha bucato Effettivamente Facciamo un ulteriore prova Ok ragazzotti Tutto pronto Spariamo Non è un danno Così alto Mi giuro Mi aspettavo Qualcosa Meglio Allora Allora Facciamo un ulteriore prova Ultima prova Per vedere come reagisce Non su un blocco Di lastre Ma semplicemente Contro una nave Ok ragazzotti Ultima prova Per vedere se effettivamente Questo cannone Vale qualcosa E Spariamo Oddio È arrivato dopo L'esplosione è arrivata dopo Allora Questo è un ottimo danno Se proprio dobbiamo dirlo Questo è un ottimo danno Ma è un danno causato Dall'esplosione interna Perché poi effettivamente Esplodono tutti gli altri blocchi O solo Per la carica effettiva Del cannone Chi lo sa Chi lo sa Giusto perché a noi piace Fare esplodere cose Testiamo ancora una volta Quindi Nuova cannon Controlla Andiamo Qua E spariamo di nuovo Adesso arriva l'esplosione Di nuovo Non so perché Non lo so Non lo so ragazzi Non lo so Non ve lo so dire A quanto pare O il colpo Ha innesco ritardato Che vuol dire Che magari Il colpo Il colpo arriva Penetra E poi esplode Oppure Semplicemente Esploso tutto Perché qua dentro C'erano dei blocchi Non lo so Non lo so Aspetto il vostro feedback Fatemelo sapere Comunque adesso Ci spostiamo Alla seconda arma Cioè Al Macro cannon Ok ragazzotti Allora Eccoci qua Con i macro cannon E ancora un paio Di informazioni Sia il nuova cannon Che il macro cannon Utilizzano munizioni personalizzate Era solo questo sostanzialmente Quindi parlando del macro cannon Anche questi si comportano Come delle Delle torrette Quindi possono essere controllate Controllati E hanno i soliti settaggi Delle torrette appunto Hanno un raggio di puntamento Di 1200 metri Che è tantissimo ragazzotti E niente Semplicemente spariamo Anche questi probabilmente Sì Hanno il loro Raggio d'azione Molto limitato Comunque abbiamo Anche qua lo zoom Spariamo Buono Una ricarica Accettabile Ragazzotti Devo dire Bello il rumore Sicuramente Molto bello Ragazzotti Devo dire Che preferisco Questo Rispetto al Nova cannon Wow Bella stonda d'urto Bello Bello Davvero Sicuramente I danni Sono minori Ma Ehi E' pur sempre Un lanciarazzi Se si comporta Come una torretta Questo In batteria Ragazzi E' spettacolare Sinceramente Me lo aspettavo Molto tipo Lanciarazzi Appunto Wow Cioè guardate E' come se L'onda d'urto Stesse letteralmente Bucando tutto Stiamo creando Un cerchio Praticamente Wow Staccato 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 il primo Pezzo Davvero Davvero Carino Ragazzotti Questa Mod Sembra Quasi Che per Entrambe Le armi Sia più Il danno Causato Dall'onda D'urto Rispetto A quello Dell'esplosione Stessa Molto Interessanti Molto Interessanti Sarebbe Proprio Bello Vederle In fuoco Di fila Cioè Come si Comportano Quando Di fronte O in Qualsiasi Tipo Di Frangente Si ritrovano A Dover Combattere Un nemico Quindi Che iniziano A sparare In automatico Wow Davvero Davvero Bello Ho preferito Molto Di più Quest'arma Rispetto Al Nova Cannon Ve lo Devo Dire Comunque Ragazzotti Il mod Spotlight Di oggi Termina qua Io vi ringrazio Per avermi seguito Vi invito a lasciare Un mi piace E un commento Dicendomi cosa ne pensate Di questa mod E se vi piace O comunque Se la conoscevate già Io vi ringrazio Ancora per la visione Sono Gold E ci vediamo Al prossimo video Bye bye